La storia di quelli che la notte del terremoto alle 3.32 ridevano ce la stiamo dimenticando, ma in realtà è lo specchio di un intero paese, un paese di zozzoni. Sono queste le parole aspre di Oliviero Bea, giornalista a radio televisivo e della carta stampata, in prima linea sul Re 3 per il Fatto Quotidiano, oggi all'Aquila in occasione del premio Lodomia Bonani, di cui è il vincitore commetico, il suo ultimo libro. C'è bisogno all'Aquila in tutto lo stivale di una giustizia più efficace e più rapida, dice Bea, che incontriamo a Piazza Duomo, dove arriva in compagnia di sua moglie per visitare la zona rossa del centro storico. Ormai in un paese in cui non funziona quasi niente, la stampa, bene o male che sia, si sostituisce con la cosiddetta gogna mediatica, si sostituisce alla magistratura per tanti versi, quindi per certi versi ci sarà qualcuno che è stato già condannato e invece magari risulterà innocente in termini processuali, letterali, cioè giudiziari, e qualcuno che invece magari se la cava in termini giudiziari ci avrà delle responsabilità pubbliche enormi, quindi salverà la faccia, mentre invece non se lo meriterebbe. Insomma le cose si mischiano un po'. Di sicuro la sensibilità comune, se fa pressione, chiede una giustizia più efficiente e più rapida e chiede anche una diversa etica pubblica, perché qui la famosa storia di quelli che ridevano al telefono, forse ce la stiamo cominciando a dimenticare, ma è in realtà una fotografia della mancanza di morale e di etica di un paese di zozzoni. Oliviero Bea commenta anche le inchieste giudiziarie che pesano sull'Aquila e soprattutto sugli Aquilani, a partire dal processo alla commissione Grandi Rischi, in udienza proprio oggi al Tribunale dell'Aquila. Con le calamità si combatte da che mondo in mondo, dice lo scrittore e saggista, in merito alla prevenzione, ma sono le responsabilità che devono essere identificate. Pensiamo al parallelismo tra l'Italia e il Giappone, suggerisce ancora il giornalista. Il problema è che queste cose servano per identificare, sotto le campane, per identificare delle responsabilità e servano anche da lezione, perché poi con le calamità naturali ci si combatte da che mondo in mondo. L'idea che oggi, nel 2011, un mondo così sofisticato, almeno una parte di mondo così sofisticato, debba poi sottostare alle calamità, più o meno come succedeva cent'anni fa o duecent'anni fa, è spaventoso. Il rapporto, il paragone con il Giappone fa ancora un effetto enorme. Giappone, diciamo la verità, se fosse capitato qui un quarto di quello che è successo in Giappone, qui non parleremo più di Abruzzo, non dell'Aquila. Sull'informazione troppo spesso deformata a livello nazionale sull'Aquila, Bea dice, la disinformazione non c'è solo all'Aquila, ma in tutto il paese. Certo è che vedere la città ridotta in questo stato a quasi tre anni dal sisma fa un certo effetto. Fa effetto, tocca. L'informazione non c'è, ma non c'è solo sull'Aquila, sui bisogni, sulle necessità, sulle priorità dell'Aquila. Non c'è, o c'è pochissimo, e spesso è deformata in generale in questo paese. Detto questo, l'Aquila fa impressione. Un conto è vederla in televisione o farci trasmissioni sopra, io l'ho fatto. L'altro conto è venire, vedere, per esempio, anche solo venendo in macchina verso il centro storico, vedere delle case che avrebbero bisogno di niente per essere rimesse in condizioni, che sono ancora così a distanza di tutti questi mesi.